E' la quarta giornata del campionato di promozioni, si affrontano il Calenzano e il Malizeti. Aldorandi adesso con le mani, adesso il numero 9 Ricciardi prova a mettere al centro, buono il suggerimento, la sponda per Marchiseppe! Marchiseppe! Il Calenzano è già in vantaggio, ha segnato Marchiseppe. E dunque Calenzano 1, Malizeti 0, si sblocca subito il match al quarto minuto. E dunque un grande avvio quello della squadra di Massimo Fiorentino. Il cross arrivato dalla destra e poi il pallone inserito al centro dell'area di vigore. Marchiseppe il più lesto di tutti, con l'esterno ha battuto Brunelli e dunque è già in vantaggio. Il leone a lato e avanti il Calenzano. Al quarto minuto la sblocca Marchiseppe. Per Riccardi, ancora Riccardi, buono lo scambio 3-2. Attenzione ad Aldorandi, zona cross, Aldorandi supera Osmani, rientra sul destro Aldorandi, il cross dentro, Marchiseppe! Intanto si alza la bandierina dell'assistente. Osmani, Aldorandi di testa. Cardillo, poi Aldorandi rimette in gioco un pallone forse velenoso. Attenzione a Lanzilli che qui compiccia un po' e poi questa conclusione da parte sempre di Cardillo che termina sull'esterno della rete. L'ex giocatore della Larcianese, Rossi. Ancora Rossi dentro, suggerimento, attenzione a Osmani. Osmani il cross dentro, bravissimo, qui Evi in uscita. Suggerimento in amante, cercare Cardillo, di testa Cardillo! E poi Evi la palla resta lì, un po' di confusione, allontana sulle linee a fattori. Ed eccoci pronti per la ripresa dei secondi 45 minuti di questo Calenzano, Malisetti-Tobbianese. L'arbitro parte Marchiseppe, la punizione termina direttamente alta. Un po' di testa su una palla inattiva, attenzione, Paolacci adesso parte lui, lo spiovente verso l'area di rigore. Dentro, una mischia e poi salvi! Fischia Tranchida, parte Paolacci, il suggerimento in amante, attenzione a Caggianese, area di rigore, il contatto, attenzione! Tutto regolare, secondo Tranchida, questo contatto che rivedremo al minuto 41, un contatto dubbio in area di rigore. Composta listettivamente da Massaro e Riccardi, parte Paolacci, lo spiovente dentro, un po' di confusione, poi il pallone che sfila. Nessuno è riuscito a deviare il pallone verso la porta. Tanto per Caggianese, attenzione che c'è un po' di spazio. Caggianese, prova a buttare al dovranti, Caggianese, il croc dentro con il sinistro Cardillo, di testa! Non inquadra la porta, per pochissima, Caggianese, per pochissimo, Caggianese. Caggianese, per le tante circostanze in questo match, ma termina qui il Calenzano, alla fine ce la fa, dice 1-0 contro un buonissimo, buonissimo, Malizia di Tobbianese.